Volevo fare un ricordo, un saluto a Gianluca Buonanno. Gianluca Buonanno era un eroparlamentare della Lega, è morto il pomeriggio in un incidente stradale e qui in questa trasmissione abbiamo spesso criticato per le sue uscite, in primis quella della pistola in televisione, ma oggi ci sentiamo di ricordarlo con affetto, di dare le nostre condoglianze più sentite alla famiglia, alla moglie, ai due bambini che ha lasciato. Volevo dirlo, centinaio. Sì, effettivamente la giornata di ieri, ho passato buona parte della serata insieme a Matteo Salvini, insieme ai colleghi parlamentari, insieme a buona parte della classe dirigente del Movimento e il pensiero più importante non era tanto le elezioni quanto la situazione che stiamo vivendo, che riteniamo allucinante, perché il fatto di avere a che fare con Gianluca quotidianamente, quotidianamente, ridere e scherzare, magari anche confrontarsi e scontrarci su determinate affermazioni che aveva fatto e che faceva, era il bello della Lega, era la parte anche democratica che c'era all'interno della Lega, la possibilità di potersi esprimere.